L'Accademia delle Scienze ha inaugurato l'anno accademico 2021-2022, il 239esimo dalla fondazione dell'Istituto Torinese. La cerimonia, che si è svolta nella Sala dei Mappamondi ed è stata trasmessa in diretta streaming, è stata l'occasione per illustrare il lavoro svolto nell'ultimo anno, parlare delle prospettive future e presentare i nuovi soci e i premiati. Tra i nuovi soci stranieri, Michel Maior, professore merito di astronomia all'Università di Ginevra, che nel 2019 ha ricevuto il premio Nobel per la fisica, e Joachim Zauer, professore merito di chimica fisica e teorica all'Università di Berlino. È una istituzione culturale molto importante per Torino, che cerca di essere sempre più importante. Cerchiamo anche di non svolgere soltanto quello che è il compito tradizionale di un'accademia, cioè produrre cultura, ma cerchiamo anche, per adeguarci un po' con i tempi, di diffondere la cultura, di disseminare la cultura. In questo senso facciamo molte conferenze, convegni, cicli di lezioni, abbiamo anche fatto delle proiezioni cinematografiche recentemente, e ovviamente per fare queste cose occorre sviluppare molta sinergia, sinergia con gli altri enti locali, con gli altri centri che si occupano di cultura a Torino. Quindi il centro scienza per noi ovviamente è un termine di riferimento costante, anche perché siamo vicini di casa, abitiamo nello stesso palazzo.